Ha fotografato bene quello che cercavamo di raccontare, stiamo raccontando di una tecnologia che non ha ancora un suo vocabolario per la quantità infinita di opportunità che regalerà al nostro vivere quotidiano, per come riuscirà ad ampliare le nostre possibilità e quindi noi abbiamo provato a raccontare quella che è la massima potenza della estensione dei talenti umani, quella di mettere a disposizione un talento unico come quello del professore Musumeci in una situazione eccezionale perché quando incontriamo le sfortune della vita bisogna incontrare anche la fortuna del caso di avere i migliori talenti intorno a sé. Quando la dimensione fisica o l'impossibilità geografica si mette a frenare questa opportunità la tecnologia può supplire a questo vuoto. Questa era in sostanza la storia che volevamo raccontare e speriamo di averla fatto con efficacia. Tutto qua.